Semplicemente andiamo con la mano, lui misura la temperatura e ci dà il gel. In caso di temperatura elevata si attiva un alert, diventa rosso e scrive AI. Al convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo arriva un nuovo dispositivo progettato per fronteggiare l'emergenza pandemica e calibrato proprio sulle esigenze dei più piccoli. Abbiamo cercato di rendere una scuola sicura perché i genitori devono mandare i loro figli a scuola ed essere tranquilli e per i bambini tutto quello che noi abbiamo inserito deve essere come un aspetto educativo, capire la situazione. Per cui gel, noi ci raccomandiamo ai bambini di avere sempre le mani sanificate, ma in questo caso un gel che permette immediatamente di una misurazione della temperatura anche in modo molto semplice. Per cui ai bambini passa anche un messaggio educativo molto preciso e per noi questo è importante. Lo strumento rileva così la temperatura corporea mentre eroga in modalità automatica il gel igienizzante, semplicemente posizionando la mano sotto al totem. Lo strumento ha tre sostanziali vantaggi. Il primo, come tutto quello che noi abbiamo messo dall'inizio in circolazione, lascia in sicurezza l'utilizzatore o l'operatore, quindi qui addirittura non c'è nessun contatto di nessun tipo. Il secondo vantaggio è che è un plug and play, quindi di installazione veramente velocissima. Questo ci porta poi al terzo ed ultimo vantaggio che è quello di un costo ridotto, che in questo caso, in questo momento è un aspetto molto importante.